Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il Cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il Super Cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con Cashback e Super Cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese.